Per far ripartire il paese serve uno shock dell'economia e il rilancio delle infrastrutture, lo ha sottolineato il Premier Conte nell'informativa in Parlamento sulla fase 2. Agli italiani Conte ha rivolto un appello chiedendo scelte responsabili anche di fronte alla fine del lockdown. Niente movida e vacanze in Italia, poi un monito al mondo bancario che può e deve fare di più per erogare i prestiti a garanzia pubblica. Nell'aula di Montecitorio, al termine dell'intervento del Premier, scoppia la bagarre con il Presidente Fico costretto a sospendere la seduta. La tensione esplosa quando il deputato 5 Stelle Ricciardi ha duramente attaccato la sanità lombarda, sollevando la rabbiosa protesta dei parlamentari del centro-destra. È servita una pausa di un quarto d'ora per riportare la calma in aula. La liquidità e la priorità di molte aziende italiane schiacciate dalla crisi lo confermano le 300.000 richieste di prestiti garantiti dallo Stato, dati confermati dal Ministero dello Sviluppo. Intanto il nuovo BTP Italia, il titolo dedicato a finanziare l'emergenza coronavirus, segna un nuovo record. Gli acquisti fatti da piccoli risparmiatori e investitori istituzionali hanno permesso di raccogliere oltre 22 miliardi di euro, poco meno della metà delle risorse del decreto rilancio. E nel paese che cerca di rimettersi in moto continua a scendere la curva dei contagi. Intanto da uno studio dell'Inps emerge che nel pieno dell'emergenza da coronavirus, ovvero dal 1 marzo al 30 aprile, c'è stato un aumento di circa 47.000 morti in più rispetto alla media del quadriennio 2015-2019, percentuale molto più alta nel nord Italia, a partire dalla Lombardia, regione più colpita dal virus. Un quadro devastante di corruzione sistemica nella sanità siciliana. Così lo delinea la Guardia di Finanza, che ha smantellato un vasto giro di tangenti e appalti pilotati nelle forniture ospedaliere per circa 600 milioni di euro. Tra i 10 arrestati, il coordinatore per l'emergenza Covid in Sicilia, Antonino Candela, considerato fino ad oggi paladino della legalità, direttore dell'azienda sanitaria di Trapani. Quasi 5 milioni casi di coronavirus nel mondo. Drammatica la situazione del Brasile al terzo posto nella pandemia, con 20.000 contagi nelle ultime 24 ore e 888 vittime. Dati che potrebbero essere sottostimati. Oltre un milione e mezzo i malati negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito. Ma Trump getta acqua sul fuoco e propone di convocare a metà giugno a Camp Devide il vertice del G7 annullato a marzo. Sarebbe un bel segnale di normalizzazione, dice il Presidente. È giallo sul ruolo effettivo di Abdul Nasser al-Kirdash, arrestato dalle forze speciali dell'intelligence irachena. Per il governo iracheno sarebbe il successore di al-Baghdadi, leader dell'ISIS ucciso lo scorso ottobre dalle truppe statunitensi. Ma fonti del califato avevano designato alla guida del sedicente Stato islamico un altro personaggio di rilievo nella gerarchia dell'organizzazione terroristica. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque questa mattina in aula alla Camera c'è stata l'informativa del Premier Conte sulla fase 2. È stata una mattinata, lo diciamo subito, molto tesa e lo vedremo tra poco per via di quell'attacco molto forte fatto da un deputato dei 5 Stelle nei confronti della gestione sanitaria da parte della Lombardia che ha visto la reazione del centrodestra. Ma l'intervento di Conte non è servito solamente a dire che il peggio è alle spalle grazie al cambio di stile di vita dei cittadini italiani che devono continuare così, pertanto niente movide, niente assembramenti, no ancora alle feste tra amici. Il Premier Conte ha dato quella che è la sua ricetta economica per guarire l'altro grande malato, appunto il sistema economico del Paese che ha bisogno di uno shock del rilancio delle infrastrutture. Se oggi possiamo constatare che il peggio è alle nostre spalle e ovviamente lo affermo con tutta la dovuta prudenza lo dobbiamo ai nostri cittadini. Siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è una sfida ancora più difficile, certamente non meno insidiosa di quella che abbiamo affrontato all'inizio dell'emergenza. Il Premier Conte illustra in aula alla Camera e poi al Senato la fase 2 e le misure contenute nel decreto rilancio appena pubblicato in gazzetta ufficiale e già anticipate nei giorni scorsi. Ci rialzeremo solo se ognuno farà la sua parte, dice il Premier, elencando poi nel dettaglio tutti gli incentivi contenuti nel provvedimento e mirati a rimettere in moto l'economia del nostro Paese. Da quelli a sostegno delle piccole e medie imprese, alla famiglia, ai settori della sanità, della scuola, della ricerca, della cultura, dell'innovazione e del turismo fate le vacanze in Italia ma non alla modvida, esorta Conte, che indica come priorità la riattivazione dei cantieri e delle opere pubbliche strategiche come chiede Italia Viva. Il primo tassello spiega non può che essere la semplificazione burocratica, la madre di tutte le riforme e l'affidamento di poteri in deroga, come per il ponte di Genova, ma senza che ciò faccia venire meno controlli più rigorosi sulla trasparenza che evitano il rischio di infiltrazioni criminali e mafiose. A tal proposito, Conte conferma che il governo sta lavorando ad un decreto per offrire all'Italia uno shock nel campo delle infrastrutture poi un passaggio sulle banche che suscita le proteste delle opposizioni. Il sistema bancario, che pure sta offrendo la sua collaborazione, può e deve fare di più in particolare per accelerare le procedure necessarie per erogare i prestiti coperti dalla garanzia pubblica Le norme consentono, soprattutto di richieste inferiore a 25.000 euro, di erogare i prestiti garantiti nel giro di 24 ore In molti... Colleghi, colleghi... Conte annuncia cambiamenti anche nei settori dell'amministrazione pubblica, del fisco e della giustizia riforme che insieme alle altre misure contenute nel decreto contribuiranno a rendere il nostro paese più solidale più sostenibile e più attrattivo per gli investimenti esteri. Come anticipato in un colloquio che il foglio è titolato È l'ora della svolta, ora un patto con le opposizioni Il Premier spiega che sono tanti i progetti di riforma sui quali le opposizioni possono offrire il loro contributo a partire dagli interventi normativi per accelerare i tempi dei processi per finire la più ampia riforma per la semplificazione di tutto il sistema. Ma come vi dicevo vediamo adesso come dopo una giornata passata serrando i ranghi a difesa del ministro della giustizia Bonafede che ha visto respinte due emozioni di sfiducia nei suoi confronti o di 5 Stelle abbiano deciso il contrattacco con un intervento durissimo del deputato Riccardo Ricciardi che ha puntato il dito sulla gestione dell'emergenza nella regione Lombardia. Va da sé che in aula è scoppiata la bagarra con il centrodestra. Colleghi dovete tornare i vostri... Deputato Volpi dovete tornare i vostri posti Guidesi Sospendo la seduta Aula della Camera incandescente all'indomani della fiducia riconfermata al guardasigilli Bonafede al governo in Senato dove un altro voto di fiducia stamattina passa sul decreto Covid Ed è la maggioranza ricompattata con il sì alle proposte renziane del presidente del Consiglio Giuseppe Conte I 5 Stelle difendono in totto l'operato del governo, alzano i toni contro il modello Lombardia In Cina hanno messo dieci giorni a costruire un ospedale, in Lombardia sei L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti 20 minuti dopo a stento il dibattito sull'informativa del Premier riesce a riprendere Un insulto ai Lombardi e un ominicchio, commenta Aspro Salvini Le opposizioni chiedono a Conte di dissociarsi dall'attacco dei 5 Stelle alla Lombardia, regione martire del Covid E credo che sia suo dovere far sì che anche quest'Aula non possa pensare che sia normale speculare sui migliaia di morti della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna per difendere un governo le cui incapacità sono davanti agli occhi di tutti gli italiani Lei oggi ha una precisa responsabilità, quella di alzarsi da quella sedia e pronunciare parole di distingo rispetto a un rappresentante del suo partito Lei che vola alto, che fa gli appelli all'opposizione è il partito che rappresentate che viene utilizzato per provocare e insultare dalla mattina alla sera Il centrodestra attacca tutta la gestione romana della crisi Le scelte sanitarie, il lockdown e la riapertura ritardate l'economia è bloccata con i soldi che non arrivano a persone e imprese L'eccesso di DPCM che hanno esautorato il Parlamento deriva autoritaria e l'accusa La Lega ripropone una commissione d'inchiesta su tutto questo periodo e sulle responsabilità da attribuire Rispetto assoluto per le vittime, i sanitari lombardi, interviene il PD Emanuele Fiano Ma non rinunciamo a dire la verità La commissione indaghi sull'intera vicenda, compresi i comportamenti della regione Lombardia Non piace a IDEM la scelta del centrodestra poi di andare in piazza il 2 giugno Festa della Repubblica per una manifestazione di parte La collaborazione bisogna attuarla tutti qui, tutti nel rapporto con le regioni e allora anche nelle piazze di questo paese nelle date che hanno scritto il calendario civile dell'Italia Infine è Maria Elena Boschi a siglare la pace ritrovata tra Italia Viva e il governo Apprezzando i riconoscimenti del Premier e rivendicando un cambio di rotta E la necessità ora di un piano shock per rilanciare il lavoro E dunque abbiamo sentito il Premier Conte, sistema bancario che può e deve fare di più Ha detto in questa fase che la liquidità è ciò che serve ciò che serve soprattutto alle piccole e medie imprese che più di tutte hanno pagato e sofferto la fase di lockdown Dunque liquidità per ripartire, lo dicono anche i numeri che sono arrivati oggi sulle tante e tantissime richieste di prestiti garantiti dallo Stato Che la liquidità sia la priorità assoluta di molte aziende italiane in forte sofferenza dopo il lungo periodo di chiusura forzata è noto ma oggi a darci un quadro delle situazioni reali sono i dati che arrivano dal Ministero dello Sviluppo e dal Mediocredito Centrale Dal 17 marzo al 20 maggio sono state oltre 300.000 le domande di prestiti garantiti dallo Stato per un totale di 13,8 miliardi di euro A voler portare legna in cascina per affrontare la grave crisi economica paragonata da molti alla grande depressione del 1929 sono soprattutto i piccoli imprenditori Sempre negli stessi mesi sono 271.000 le richieste fatte per i prestiti fino a 25.000 euro totalmente garantiti dallo Stato e per un valore di 5 miliardi e mezzo di euro Una fame di soldi in aumento come confermato anche dall'ABI l'Associazione delle Banche Italiane che sottolinea l'enorme sforzo fatto dagli istituti di credito ma per il Premier Conte devono fare di più è essenziale che le banche riescano ad allinearsi alle pratiche più efficienti assicurando la liquidità garantita nei tempi più rapidi ha detto stamani in Parlamento facendo proprio le lamentele di confesercenti e confcommercio sugli ostacoli e le lentezze a ottenere i prestiti garantiti dallo Stato Banche coinvolte anche in un altro meccanismo previsto questa volta dal decreto rilancio appena in vigore dovranno diventare intermediari finanziari accettando il credito d'imposta introdotto dal super bonus al 110% lo sconto fiscale per incentivare il risparmio energetico attraverso il cambio degli infissi o delle caldaie e dei pannelli solari delle prime case e seconde solo se in condominio l'altra criticità riguarda la cassa integrazione guadagni in deroga il governo è corso ai ripari velocizzando l'iter precedente una vera corsa a ostacoli a causa della doppia gestione tra regioni e IMSS ma vale solo per le prossime domande e intanto l'associazione Un'Impresa denuncia che sono ancora milioni i lavoratori in attesa dell'assegno di marzo e i più fortunati che lo hanno ricevuto hanno scoperto che era inferiore al 50% della propria busta paga la strada per il rilancio economico dunque è in salita ora la svolta per il premier Conte è il decreto sulle semplificazioni madre di tutte le riforme vedremo se il modello sarà quello del ponte di Genova con l'ennesima riforma del codice degli appalti intanto fiducia e sostegno al Paese sono state dimostrate da quegli investitori sia istituzionali che dai risparmiatori privati che hanno sottoscritto il BTP Italia che serve a finanziare le spese dell'emergenza Covid emissione che ha superato tutti i record delle precedenti la chiamata al sostegno di un sistema messo a durissima prova dalla pandemia ha ricevuto una inequivocabile, generosa e forse inattesa risposta da parte degli italiani che nei primi tre giorni della settimana hanno fatto incetta di BTP Italia un'emissione, la sedicesima per questa tipologia di bond destinata a sostenere le spese per l'emergenza Covid-19 la clientela retail, quella composta dai piccoli risparmiatori ha infatti iniettato nelle casse del tesoro 14 miliardi di euro permettendo di raggiungere da sola gli obiettivi di raccolta finale indicati tra i 13 e i 16 miliardi a questa cifra poi vanno aggiunti gli ulteriori 8 miliardi e 300 milioni a fronte di una richiesta di oltre 19 miliardi andati agli investitori istituzionali nelle due ore a loro dedicate questa mattina da le 10 a mezzogiorno totale dunque 22 miliardi e 300 milioni di euro primato assoluto dall'introduzione del BTP Italia nel 2012 per rendere bene l'idea il decreto rilancio, la manovra più pesante della storia della Repubblica vale 55 miliardi di extra deficit attenzione, non parliamo certo di un prelievo né di un finanziamento a fondo perduto per usare un termine particolarmente attuale concesso allo Stato si tratta pur sempre di un prestito di una emissione di debito che poi il tesoro dovrà restituire ai cittadini titoli a 5 anni indicizzati all'inflazione con un tasso di interesse annuo definitivo ufficialmente comunicato dal Ministero dell'Economia all'1,40% più del doppio rispetto alla collocazione di ottobre e anche questo spiega il successo di questa emissione tassazione agevolata al 12,5% e premio dell'8 per 1000 per chi terrà i titoli fino alla scadenza sono le altre condizioni che rendono questi titoli di Stato particolarmente appetibili resta la realtà di una risposta massiccia per dirla con le parole del Ministro dell'Economia Gualtieri un vero record dalla nascita di questo strumento gli italiani dimostrano così fiducia e sostegno al nostro Paese che vuole uscire presto da questa crisi In Europa intanto continua il dibattito sapete su ampiezza e modalità del Recovery Fund un dibattito scatenato dalla proposta franco-tedesca di 500 miliardi a fondo perduto per aiutare i Paesi questi soldi che i rigoristi del Nord vogliono trasformare in prestiti in cambio di riforme molto ampie su vasta scala da fare apposta nei Paesi che faranno richiesta Per il nostro Governo la valutazione è che il complesso di tutte quelle linee di credito che l'Europa ha acceso o vorrà accendere non basta a tenere l'economia a galla Chiaramente si discuterà sulla proposta complessiva che farà la Commissione Europea mercoledì prossimo lì verranno fatte le valutazioni finali sullo strumento ma è chiaro a tutti nelle stanze di Bruxelles che un'Europa senza l'Italia che riesca a farcela è un'Unione che non esisterebbe più Un fondo per la ripresa all'altezza della sfida è ciò che reclamano a gran voce i Paesi dell'Unione Europea colpiti dall'emergenza coronavirus e dalla conseguente crisi economica in vista della presentazione mercoledì prossimo della proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen Quanto alla proposta da 500 miliardi avanzata dalla cancelliera tedesca Merkel e dal presidente francese Macron Austria, Olanda, Danimarca e Svezia insistono perché i soldi ricevuti dai singoli stati grazie agli strumenti messi in campo dall'Unione vengano completamente restituiti a detta del premio olandese Rutte in particolare la controproposta condivisa che i quattro si apprestano a varare conterrà un pacchetto di misure in cambio delle quali il Paese che avrà richiesto gli aiuti dovrà rispondere con riforme di vasta portata Sono molto ottimista sul fatto che si possa raggiungere un accordo sulla proposta Merkel-Macron sostiene invece il ministro degli esteri tedesco Maas alla fine tutti ne trarrebbero vantaggio Secondo un sondaggio commissionato da Der Spiegel il 51% degli elettori tedeschi interpellati vede con favore il piano franco tedesco contro il 34% che si dice contrario Il Premier Conte ribadisce comunque che la quantità di risorse mobilitate dagli strumenti comunitari comprese il Recovery Fund nella versione condivisa da Parigi e Berlino non è sufficiente per mantenere a galla l'economia Ma non c'è solo il Fondo per la Ripresa Dal 1 giugno i 27 potranno coprire le spese sanitarie dirette ed indirette legate al coronavirus ricorrendo al Meccanismo Europeo di Stabilità MES per un valore pari al 2% del prodotto interno lordo al tasso di interesse stracciato dello 0,1% con commissione d'entrata dello 0,25 Cipro è il primo dei paesi dell'Eurozona a chiederlo Nonostante l'apparente convenienza i governi di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia si dicono non interessati ad utilizzarlo mentre in Italia resta aperto il dibattito tra chi lo considera un'occasione imperdibile e chi lo vede come un rischio ulteriore di perdita di sovranità Nelle sue linee guida annuali pubblicate ieri intanto la Commissione Europea raccomanda ai 27 che la grave recessione provocata dal Covid diventi l'occasione per accelerare la modernizzazione dell'economia europea Torniamo a parlare del monitoraggio del contenimento del contagio dicendo che ieri in Italia si è registrato il rapporto più basso tra positivi trovati e numero di tamponi fatti dunque dati che fanno ben sperare e ai quali si accompagna la speranza di poter riaprire per esempio il rapporto tra le regioni dal 3 di giugno Regioni a rischio basso tutte tranne tre che sono a medio rischio dice il Ministro Boccia solamente se il rischio resterà basso si potranno concedere gli spostamenti appunto dall'inizio di giugno Intanto è in corso il piano del Viminale per controlli e pattugliamenti contro gli assembramenti le famose feste o comunque aperitivi nelle zone della Movida 665 casi in più nei dati resi noti ieri dalla protezione civile 2881 tra dimessi e guariti gli attualmente positivi calano di 2377 unità significativo il lieve aumento di contagi a Milano città soltanto 8 in più il miglior risultato degli ultimi due mesi 161 i nuovi decessi e sul numero complessivo dei decessi nel periodo dell'emergenza l'Inps ha condotto uno studio secondo il quale nel periodo dal primo marzo al 30 aprile 2020 in Italia c'è stato un aumento di 46.909 decessi rispetto alla media 2015-2019 percentuale molto più alta nelle regioni del nord in particolare in Lombardia dove l'incidenza dell'epidemia è stata più forte con un aumento dell'84% delle morti a fronte di un più 11% al centro e un più 5% al sud intanto l'Italia tra mille incertezze prova a ripartire il paese si rimette in moto con negozi e ristoranti aperti ma le distanze obbligatorie per evitare assembramenti e il prevedibile aumento dei prezzi non incoraggiano i cittadini molti locali restano vuoti e molti altri non hanno neppure riaperto sono spesso pieni anche oltre il consentito i bar frequentati da giovani ma come ha ribadito più volte il premier Conte non è tempo di movida il divieto è chiaro in questa fase 2 iniziata il 18 maggio non sono consentiti assembramenti ma da nord a sud l'allarme è diffuso in molti casi la polizia municipale ha chiesto ai gestori dei locali il rispetto delle misure di sicurezza troppo frequenti queste immagini con giovani che affollano locali e ritrovi all'aperto da oggi i controlli ordinati dai prefetti saranno molto più serrati con multe da 300 fino a 3.000 euro per chi non osserva le regole del distanziamento ma il governo ha definito anche un articolato sistema di controllo dell'andamento epidemiologico anche attraverso i test molecolari e serologici per ora l'Italia è al primo posto per numero di tamponi per abitanti che sono stati pari a 3,17 milioni da lunedì partiranno i test gratuiti su un campione di 150.000 cittadini tutti volontari su base regionale parliamo ancora una volta di quello che è stato uno dei teatri più tragici di questa pandemia ovvero le residenze di cura e di riposo per gli anziani che sono al centro come sapete di molti filoni e di inchiesta i sindacati della Lombardia sono in pressing in queste ore sulla regione perché faccia chiarezza da un lato sul numero delle vittime che è molto importante da conoscere con certezza dall'altro anche su quelle che possono essere le misure da adottare per pensare a una riapertura di queste strutture perché da porre è anche il problema occupazionale 616 anziani deceduti in 44 case di riposo della provincia di Pavia durante la pandemia negli ultimi tre mesi l'ultimo report che include anche decessi non dovuti a covid sull'RSA Lombarde arriva dalla CGL numeri che fornirebbero solo un racconto parziale di quello che è successo visto che secondo il sindacato l'azienda tutela della salute non ha ancora fornito il numero ufficiale di decessi come era stato chiesto richiesta a cui se ne aggiunge anche un'altra quella di accedere agli ammortizzatori sociali perché anche nelle case di riposo adesso aleggia il fantasma della disoccupazione le liste di attesa sono bloccate e nelle strutture sono vietati nuovi ingressi tutto questo preoccupa il futuro lavorativo degli operatori sociosanitari in tutta la Lombardia e non solo e così i sindacati chiedono alla regione cosa ha intenzione di fare sul sistema assistenziale visto che il tema anche nelle prossime settimane e mesi sarà quello delle misure di contenimento all'interno di queste strutture fare chiarezza sui decessi per il sindacato vuol dire anche verificare le procedure messe in atto nelle strutture la fase 2 infatti riguarda anche le case di riposo dove dopo la strage di anziani causata dalla pandemia e le inchieste giudiziarie l'attenzione è massima pure sulle misure da mettere in campo visto che a breve queste strutture dovrebbero essere riaperte al pubblico per riammettere le visite dei parenti il Pio Albergo Trivulzio eccellenza milanese in tema di RSA indagata insieme ad altre 25 strutture per diffusione colposa di epidemia e omicidio colposo plurimo dalla procura di Milano ha fatto sapere che nel mese di maggio sono morti altri 34 anziani la struttura in una conferenza stampa qualche settimana fa aveva comunicato che tra gennaio e aprile si erano contati 405 decessi tra la sede centrale della Bagina e le due succursali ora nel bollettino si legge che i tecnici e gli esperti ancora in questi giorni ci informano sul fatto che il numero dei contagiati è di molto superiore a quello dei casi noti che in questa fase è richiesto un ulteriore sforzo a parenti e familiari degli ospiti e dei pazienti visto che la chiusura al pubblico resta disposta almeno fino alla fine del mese di maggio e che presto ci sarà un tavolo tecnico col comitato dei parenti delle vittime del PAT Procura di Milano che come atto dovuto ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né indagati al momento sulla realizzazione dell'ospedale anti-covid nei padiglioni della Fiera di Milano un punto sul quale si è scatenato come avete sentito prima il dibattito parlamentare di questa mattina a Milano restiamo per andare a vedere come a non approfittare della possibilità di riaprire la propria attività commerciale siano stati in molti casi proprio i bazar tenuti da cinesi le vetrine dei negozi con le scritte in cinese sono ancora quasi tutte spente sarà cinesche abbassate nei negozi dell'abbigliamento all'ingrosso soprattutto ma anche gli alimentari di cibi esotici che tanto piacciono ai turisti non hanno ancora riaperto e così molti ristoranti la Chinatown milanese era stato il primo quartiere dove le attività commerciali avevano chiuso ancora prima del lockdown e la ripartenza ora è a scarto ridotto ancora presto per noi vedendo cosa è successo in Cina come hanno fatto precauzione le apertura eccetera perché lì lì ha aperto proprio con la diffusione bloccata invece qua stiamo viaggiando contemporaneamente insieme la diffusione qualcuno è andato in Cina in grossista il giorno ma il 4 maggio già poteva aprire invece non è aperto perché loro magari hanno andato in Cina allora non riesce a tornare tanti timori dunque pensando alla madre patria dove la chiusura è stata più lunga e dopo la ripartenza una nuova area è stata bloccata infatti anche fuori dal quartiere i negozi di estetica cinese sono stati gli ultimi a riaprire ma c'è anche l'aspetto economico qui gli affari si facevano con i turisti ora assenti oppure con la vendita di abiti a negozi al dettaglio che per ora non si espongono nel rinnovo degli ordini l'estate rischia di essere il periodo peggiore soprattutto per i ristoranti che per ora con le vie di Chinatown semi vuote si limitano al delivery per Francesco Hu storico portavoce della comunità c'è il rischio di un ottobre nero con il 20% delle attività che non potrà riaprire i cinesi sono ancora in quarantena nel senso che loro non escono infatti loro probabilmente apriranno se riaprono a giugno perché tanti hanno detto che non sanno se riapriranno perché non essendoci più il turismo non essendoci più la gente che gira apre il negozio cinese chi viene a vederlo sicuramente ancora paura e la gente non è come insomma il traffico che c'era prima non c'è adesso ancora alcuni negozi sono ancora chiusi il centro culturale cinese luogo di incontro della comunità cinese italiana era stato l'ultimo avamposto a chiudere a marzo oggi non troviamo nessuno che ci apra il portone adesso andiamo in Sicilia per raccontarvi di una maxi operazione della guardia di finanza contro un sistema che permetteva di pilotare gli appalti nella sanità regionale ci sono stati dieci arresti tra funzionari pubblici e imprenditori tra loro anche un volto di spicco in questa fase della sanità regionale un comitato d'affari un sistema collaudato che pilotava appalti per oltre 600 milioni di euro due figure centrali manager pubblici intorno ai quali ruotava tutto il presunto meccanismo di tangenti e una vittima la sanità siciliana il quadro tratteggiato da Sorella Salute la maxi inchiesta della guardia di finanza di Palermo ha portato alla luce ancora una volta un ritratto desolante di illegalità e corruzione dieci persone sono state arrestate questa mattina a Palermo sono accusate a vario titolo di corruzione spiccano i nomi di Antonio Candela e Fabio Damiani il primo è l'attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 il secondo Damiani è il direttore dell'azienda sanitaria di Trapani in passato a capo della centrale unica di committenza in Sicilia manager pubblici di lungo corso veri e propri ras della sanità come lo stesso Candela a 55 anni si autoproclamava in alcune conversazioni intercettate dai finanzieri così in un passaggio evidenziato nell'ordinanza Candela definisce la sanità siciliana come un condominio e spiega al suo interlocutore ricordati che io sono sempre il capo condomino Candela aveva anche ricevuto la scorta dopo aver denunciato un sistema di tangenti nel 2016 era stato premiato con la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica per il funzionamento per la legalità e l'anticorruzione nel settore le accuse nei suoi confronti si riferiscono a vicende relative e proprie agli anni tra il 2016 il 2018 quando Candela finito agli arresti domiciliari era il direttore generale dell'azienda sanitaria 6 di Palermo la più grande della regione secondo i magistrati di Palermo avrebbe intascato da alcune ditte aggiudicatrici degli appalti tangenti per oltre 260.000 euro e insieme con il faccendiere Giuseppe Taibbi anche egli agli arresti domiciliari avrebbe messo in piedi un centro di potere in grado di condizionare l'assegnazione degli appalti per la fornitura e la manutenzione di apparecchiature elettromedicali e per i servizi di pulizia custodia cautelare in carcere invece per il manager pubblico Fabio Damiani e per il faccendiere Salvatore Manganaro che avevano costituito secondo gli investigatori un altro comitato di affari che agiva in parallelo e con le stesse dinamiche di quello composto da Candela e Taibbi nell'inchiesta sarebbe indagato per turbativa d'asta anche il vicepresidente della commissione sanità dell'assemblea regionale siciliana Carmelo Pullara eletto in una lista di centrodestra dal governatore Musumeci che da parte sua ha fatto sapere che la regione si costituirà parte civile nel processo Andiamo a sentire adesso i numeri del contagio nel mondo che guarda con preoccupazione agli Stati Uniti e all'America Latina Stati Uniti epicentro del contagio al momento con numeri che non supportano la necessità e la voglia di Trump di accelerare nella ripartenza La pandemia rallenta in Europa ma si espande a ritmi mai visti nel resto del mondo superando una cifra che mette i brividi 5 milioni di casi confermati le ultime 24 ore sono state il teatro del più grande balzo del numero di ammalati di Covid-19 106 mila l'epicentro ormai da tempo sono gli Stati Uniti che procedono con un incremento giornaliero di circa 1500 contagiati per un totale ormai abbondantemente sopra il milione e mezzo cifre che Donald Trump ha definito un merito secondo il presidente sono infatti dovute esclusivamente al numero di tamponi infatti il più alto al mondo sopra i 93 mila i morti nonostante dati allarmanti il presidente ha spinto sulla strada della riapertura tutti e 50 gli stati ed ha proposto ai leader mondiali non solo di rimettere in piedi il vertice del G7 cancellato a marzo ma di tenerlo stavolta dal vivo e non dare moto a metà giugno nella residenza di Camp David sarebbe un bel segnale di normalizzazione ha detto Trump cauti per il momento gli altri membri dei sette grandi con Trudeau e Macron nello stesso conte che si dicono disponibili se ci saranno le condizioni sanitarie per garantire la sicurezza di tutti fuori dagli Stati Uniti è in Brasile che il Covid appare ormai fuori controllo favorito dal comportamento del presidente Bolsonaro che ha minimizzato la pericolosità del virus il Parlamento nazionale ha imposto l'obbligo di mascherine solo due giorni fa la conseguenza sono 20.000 contagi nelle ultime 24 ore mai così tanti e 888 vittime cifre che fanno del Brasile il terzo paese al mondo per diffusione del virus peraltro pesantemente sottostimato visto il basso numero di tamponi secondo un gruppo di scienziati indipendenti infatti ci sarebbero almeno 3 milioni di contagiati 11 volte più delle stime ufficiali difficilissima poi la situazione in India in una delle più grandi megalopoli Calcutta devastata dal ciclone Anfa milioni di persone sono state evacuate e concentrate ai rifugi nonostante i rischi di contagio da Covid ed infine in Cina le autorità di Wuhan hanno deciso di proibire per 5 anni la caccia e il consumo di animali selvatici ribadendo così l'origine naturale del virus e la possibile propagazione attraverso questi canali in piena contrapposizione con chi sostiene la teoria dell'errore di laboratorio e l'origine umana nuovo sbarco ieri a Lampedusa di 135 migranti che erano stati soccorsi qualche ora prima dalle motovedette della Guardia Costiera Italiana verranno presto trasferiti su una nave quarantena la Mobi Zaza al momento in rada a Porto Empedocle sulla stessa nave ieri un immigrato di 28 anni che stava trascorrendo a bordo la quarantena si è lanciato in mare forse per disperazione o nel tentativo comunque di fuggire ed è purtroppo annegato su questo episodio la protesta delle ONG contro le misure di isolamento alle quali sono costretti i migranti intanto dopo la denuncia del quotidiano dei Vescovi a venire sul dirottamento verso l'Italia di un barcone carico di migranti da parte della Guardia Costiera Maltese alla Valletta è stata aperta un'inchiesta sarà convocato l'equipaggio della motovedetta che ha condotto l'operazione lo scorso 11 aprile parliamo adesso di quello che oggi è stato definito un grande colpo all'ISIS ovvero la cattura in Iraq dell'uomo considerato possibile successore di al-Baghdadi ovvero il capo del sedicente stato islamico così secondo i media iracheni ma è giallo per il governo in carica è il successore del numero uno dell'ISIS Abdullah Aser al-Kirdash dopo una lunga indagine di intelligence è stato arrestato ieri dalle forze speciali l'uomo non avrebbe ancora preso il posto di al-Baghdadi leader storico del califato ucciso l'ottobre scorso dalle truppe statunitensi e sarebbe in sostanza il candidato designato a guidare il sedicente stato islamico la notizia arriva a tre settimane dalla nomina primo ministro di Mustafa Al-Kadimi ex capo degli 007 iracheni laureato in legge vissuto per anni in esilio a Londra e Berlino già oppositore del regime di Saddam Hussein l'attuale premier iracheno è da sempre molto vicino agli ambienti diplomatici americani e col sostegno di Washington ha rifondato i servizi segreti di Baghdad in realtà già il 31 ottobre scorso il consiglio della sciura dell'ISIS con un messaggio audio diffuso sulla rete che aveva annunciato a successore un altro personaggio già noto tra i vertici dell'ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurashi ai primi del mese erano poi circolate voci sulla cattura di quest'ultimo originario della città di Tala'Afar nel nord-ovest del paese ma ieri invece il governo iracheno ha sorpreso tutti mostrando le immagini del presunto nuovo capo terrorista in manette con l'insediamento del nuovo premier a Baghdad a giugno partirà il nuovo coordinamento strategico con gli Stati Uniti il generale al-Saadi attuale comandante dei servizi segreti ha anticipato un'operazione ad ovest di Kirkuk vicino a Mosul per neutralizzare le organizzazioni terroristiche che continuano a combattere per il ritiro delle truppe americane dall'Iraq martedì un razzo è stato lanciato contro la sede fortificata dell'ambasciata statunitense nella capitale episodi analoghi vanno avanti da mesi e il Pentagono accusa le milizie irachene appoggiate dall'Iran di essere dietro questi attacchi ci fermiamo per qualche istante tra poco parliamo adesso del campionato di calcio del quale ancora non si conosce la data della ripartenza si conosce però quella della fine non oltre il 20 agosto a questo punto manca solo la data della ripartenza il ministro Spadaforo ha rimandato la decisione a giovedì prossimo ma per il resto il calcio professionistico italiano ha delineato chiaramente i confini all'interno dei quali muoversi per portare a termine la stagione predisponendo anche soluzioni paracadute per garantire comunque scudetto e retrocessioni la Federcalcio ha fissato al 20 agosto la data ultima di chiusura del campionato e al 31 il giorno di chiusura della stagione compresa la Coppa Italia anche la Serie B e la Serie C avranno così più tempo per determinare le classifiche sul campo ma come sappiamo l'emergenza Covid non è finita e se il campionato una volta ripartito fosse nuovamente costretto a fermarsi l'ipotesi ormai ufficializzata sarebbe quella dei play-off a 4 per lo scudetto a 6 per le retrocessioni per chiudere comunque la stagione e se neanche questo fosse possibile si definirà una classifica finale che terrà conto del numero di partite disputate da ogni club e di altri coefficienti oggettivi insomma i campionati si giocheranno fino in fondo salvo clamoroso sciopero dei calciatori soprattutto di Serie C sul piede di guerra dopo le nuove norme sulle licenze per l'iscrizione ai campionati in sostanza i club avranno facoltà di pagare un solo stipendio quello di maggio e per di più al netto fino ai successivi controlli amministrativi previsti per ottobre non un problema per Cristiano Ronaldo ma di certo per quei giocatori e sono tanti che guadagnano 1400 euro al mese pronto a dare battaglia il presidente dell'asso calciatori Damiano Tommasi che oggi riunisce l'associazione per discutere il problema Serie C che comunque potrebbe non ripartire dopo la lettera inviata stamattina alla federazione da parte dei medici della categoria che definiscono irricevibile l'ipotesi di ripresa con questo protocollo e annunciano iniziative clamorose con lo slittamento della stagione cambieranno anche le date del calciomercato che dovrebbe aprirsi il primo settembre per chiudersi il 5 di ottobre intanto la Serie A lavora verso la ripresa del campionato seguendo l'ultima versione del protocollo sanitario la novità più importante riguarda le indicazioni da seguire in caso di positività di un giocatore il contagiato andrà a casa mentre il resto del gruppo potrà continuare ad allenarsi ma chiudendosi in ritiro blindato per 14 giorni aumentano i controlli tamponi tre giorni prima dell'inizio degli allenamenti collettivi il giorno dell'avvio e una volta ogni quattro giorni test sierologici ogni due settimane velocemente vi ricordo la nostra sottoscrizione se vorrete contribuire con un aiuto contro il coronavirus in collaborazione con Corriere della Sera a Gazzetta dello Sport il codice IBAN tutte le coordinate bancarie che potrete trovare sui nostri siti di informazione a partire da tgla7.it grazie per averci seguito la linea va a Tiziana Panella con Tagadà buon pomeriggio a Tiziana Panella sui nostri a Tiziana Panella Grazie a tutti.